buongiorno allora oggi andremo a fare un pupazzo abbastanza grande tutti allora per fare tutti io ho utilizzato un filato di acrilico giallo naturalmente e quindi cominciamo il lavoro questo lavoro sarà diviso in più parti perché la spiegazione abbastanza lunga quindi facciamo il nostro anello magico come sempre come sempre estraiamo la nostra catenella e nell'anello magico lavoriamo le nostre 6 maglie 1 2 3 4 5 e 6 maglie stringiamo il lavoro e chiudiamo il giro con la maglia bassissima abbiamo fatto così il primo giro secondo giro tutti aumenti quindi da stasera arriveremo a 12 quindi 1 2 primo aumento 3 e 4 il secondo aumento 5 e 6 7 e 8 9 e 10 11 e 12 abbiamo fatto così anche il secondo giro adesso dobbiamo fare il terzo giro per fare il terzo giro e mettiamo un marca punti per riconoscere i giri così e facciamo un giro facendo una maglia e un aumento per arrivare a 18 quindi una maglia e un aumento una maglia e un aumento per tutto il giro faremo 18 maglie a dopo ho fatto il terzo giro o 18 maglie continuo ad aumentare adesso farò due maglie e un aumento 2 maglie basse un aumento per tutto il giro alla fine del giro avrò 24 maglie ci vediamo dopo ho fatto anche il quarto giro sposto di nuovo il marca punti e vado a fare il quinto giro il quinto giro farò tre maglie 1 2 e 3 maglie più l'aumento più l'aumento 3 maglie e un aumento per tutto il giro alla fine di questo giro avrò 30 maglie facciamo questo giro ho fatto anche il quinto giro sono a 30 maglie sposto di nuovo il marca punti e faccio un altro giro di aumenti portando le maglie da 30 36 facendo questa volta quattro maglie quindi una due tre e quattro maglie e l'aumento 4 maglie e l'aumento per tutto il giro sarò a 36 a dopo ho fatto il sesto giro ho 36 maglie ora devo fare il settimo giro il settimo giro lavorerò le mie 36 maglie senza fare aumenti quindi una maglia su una maglia 1 2 3 4 5 e così via tutto il giro senza fare aumenti ci vediamo alla fine di questo settimo giro ho fatto il settimo giro da 36 maglie senza aumenti ora vado a fare l'ottavo giro facendo di nuovo un giro di aumenti e questa volta lavoreremo 5 maglie 1 2 3 4 5 maglie più l'aumento 5 maglie l'aumento lo ripeteremo per tutto il giro e avremo 42 maglie dopo aver fatto questo giro di aumenti faremo un altro giro da 42 maglie senza aumenti quindi un giro aumentando il prossimo giro sarà di 42 lo lavoreremo normalmente facciamo questi due giri ho fatto il nono giro da 42 maglie senza aumenti ora faccio di nuovo gli aumenti e faccio il decimo giro facendo 6 maglie 1 2 3 4 5 6 maglie 6 maglie e l'aumento per tutto il giro per tutto il giro alla fine avrò 48 maglie facciamo questo giro ho fatto il giro da 6 maglie e l'aumento ho 48 maglie ora faccio un giro da 7 maglie dovevo aver spostato naturalmente il marcapunti 1 2 3 4 5 6 7 maglie l'aumento 7 maglie l'aumento per tutto il giro alla fine dell'undicesimo giro avrò 54 maglie facciamo l'undicesimo giro ho fatto l'undicesimo giro ho 54 maglie sposto le marcapunti e vado a fare il dodicesimo giro il dodicesimo giro farò 8 maglie 8 maglie quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 maglie 8 maglie 8 maglie e l'aumento lo ripeterò per tutto il giro alla fine del giro avrò 60 maglie quindi il dodicesimo giro sarà di 60 maglie continuiamo fino alla fine del giro ho fatto anche il dodicesimo giro e sono arrivata a 60 maglie ora sposto il marcapunti e dal tredicesimo giro dal tredicesimo giro al diciassettesimo giro lavorerò le maglie così come si presentano quindi 60 maglie una maglia su un'altra maglia saranno 5 giri da 13 al diciassettesimo quindi 5 giri da 60 maglie senza aumenti e né diminuzione facciamo questi 5 giri ci vediamo dopo ho fatto i miei 5 giri da 60 maglie ora faccio un giro di diminuzione sposto il marcapunti e lavoro 8 maglie 1 2 3 4 5 6 7 8 maglie e una diminuzione lo ripeterò lo ripeterò 4 5 6 7 8 e la diminuzione lo ripeterò per tutto il giro e alla fine del giro avrò 54 maglie farò poi un giro il diciannovesimo da 54 maglie quindi facciamo questo giro per diminuire a 54 e il prossimo giro senza diminuzioni di 54 ci vediamo tra due giri ho fatto anche il ventunesimo giro da 48 maglie ora faccio il 22esimo giro facendo ancora una diminuzione quindi faccio una due tre quattro cinque sei maglie e la diminuzione e la diminuzione faccio sei maglie e la diminuzione per tutto il giro alla fine di questo giro avrò 42 maglie facciamo questo giro ho fatto anche il 22esimo giro e ho 42 maglie sposto il marcapunti adesso faccio un giro un po particolare faccio un aumento quindi due maglie nella stessa maglia un aumento per 10 volte quindi ripeto questo aumento per 10 volte faccio 10 quindi 10 aumenti consecutivi quindi uno due tre tre quattro cinque sei sei sette otto sette otto cinque otto cinque otto sette nove e dieci quindi sono dieci aumenti li ricontrollo dovrei avere venti maglie una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici quattorce quindici sei cia sette diciotto diciannove e venti maglie quindi ho fatto dieci aumenti consecutivi quindi ho fatto dieci aumenti consecutivi ora vado a lavorare dieci maglie basse normali quindi una due due tre quattro cinque sei sette otto nove nove e dieci maglie normali a metà di questi dieci maglie quindi alla quinta maglia una due tre quattro e cinque qui mi metto un segno perché questa è la metà del davanti della faccia davanti di titi non è obbligatorio mettere questo segno però io lo metto così sto tranquilla in questo modo quindi ho fatto le mie dieci maglie normali ora vado a ripetere questi dieci aumenti quindi dieci aumenti consecutivi questi due gruppi di aumenti fanno le guanciotte di titi quindi ripartiamo con primo aumento secondo terzo quarto quinto quinto sesto settimo ottavo quinto e decimo aumento quinto 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 e spostiamo il marcapugni ora faremo dal ventiquattresimo al ventottesimo giro 62 maglie basse che sono tutte le maglie che abbiamo qui compreso gli aumenti quindi sono il ventiquattresimo il venticinquesimo il ventiseiesimo il ventisettesimo e il ventottesimo sono cinque giri di maglie basse così come si presentano una maglia su una maglia facciamo questi cinque giri tranquillamente a dopo ho fatto i miei giri senza aumenti e diminuzioni ora vado a fare il ventinovesimo giro per fare il ventinovesimo giro faccio in questo modo sposto il marcapunti e lavoro 29 maglie basse e una diminuzione ripeto di nuovo 29 maglie basse e una diminuzione alla fine avrò 60 maglie facciamo questo giro ho fatto questo giro con solo due diminuzioni ora vado a fare il trentesimo giro il trentesimo giro farò otto maglie e una diminuzione 1 2 3 4 5 6 7 8 maglie e la diminuzione ripeterò per tutto il giro 8 maglie e una diminuzione e alla fine del giro avrò 54 maglie facciamo questo giro allora ho fatto questo giro ho portato le maglie a 54 sposto di nuovo il marcapunti e adesso faccio un altro giro di diminuzioni facendo 1 2 3 4 5 6 7 maglie e la diminuzione ripeto 7 maglie e una diminuzione per tutto il giro alla fine del giro avrò 48 maglie e avrà fatto così il trentunesimo giro a dopo ho finito il trentunesimo giro e ho 48 maglie ora faccio il trentaduesimo giro il trentaduesimo giro è fatto in questo modo sposto il marcapunti e adesso vado a fare invece di 6 diminuzioni ne faccio 12 facendo 1 2 maglie e la diminuzione e la diminuzione una due maglie e la diminuzione quindi per tutto il giro farò 2 maglie e una diminuzione alla fine di questo trentaduesimo giro avrò 36 maglie facciamo questo giro allora ho fatto anche questo giro di diminuzioni adesso prima di continuare a fare le diminuzioni comincio ad imbottire la testa di titi naturalmente la testa va imbottita molto molto bene quindi deve essere piena piena adesso io comincio a metterlo e a questo punto ho inserito nella parte più alta della testa vedete 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 faccio un altro giro di diminuzione e poi continuo ad imbottire quindi faccio un giro e imbottisco un giro e imbottisco fino alla fine allora abbiamo fatto il trentaduesimo giro con trentasei maglie adesso facciamo il trentatresimo giro 12 maglie quindi facciamo una maglia e una diminuzione spostiamo il marca punti in questo modo e lavoriamo una maglia e una diminuzione una maglia e una diminuzione ripetiamo ripetiamo questo per tutto il giro e alla fine del trentatresimo giro avremo ventiquattro maglie facciamo questo giro ho fatto il trentatresimo giro ho ventiquattro maglie ora sposto il marca punti e continuo a diminuire questa volta diminuirò solo sei maglie quindi da 24 tornerò a 18 facendo una maglia bassa 2 maglie basse e una diminuzione 1 e 2 per fare la diminuzione quindi 2 maglie basse quindi 2 maglie basse 2 maglie basse e la 2 maglie basse diminuzione lo ripeto per tutto il giro e avrò 18 maglie facciamo questo giro ho fatto il trentatresimo giro ho 18 maglie sposto di nuovo il marca punti e ora vado a fare gli ultimi due giri quindi il trentacinquesimo e il trentaseiesimo giro di 18 maglie e senza aumenti e senza aumenti e senza diminuzioni quindi una maglia sopra sopra a una maglia facciamo due giri così e chiudiamo il lavoro allora ho fatto i due giri da 18 ora faccio una maglia bassissima e chiudo il lavoro lascio il filo un po lungo per cucire a questo punto posso togliere il mio marca punti e io avevo messo ricordate questo segno per delimitare la metà del viso davanti della faccia davanti a questo punto continuerò vedete ad imbottire perché qui manca ancora dell'imbottitura soprattutto tutto per le guanciotte di titti e metto da parte il lavoro per continuare gli altri pezzi ok abbiamo fatto la testa faccio ora i due ciuffetti che ha sulla testa visto che ancora in mano il filato giallo faccio i due ciuffetti come faccio faccio il mio solito anello magico e nell'anello magico vado a lavorare le mie solite sei maglie una due tre quattro cinque e sei maglie basse stringo il lavoro chiudo il giro con una maglia bassissima in questo modo e adesso lavorerò 10 giri di sei maglie basse in questo modo guardate ogni maglia lavorerò una maglia una due tre quattro a questo punto vedete siccome è piccolo cercherò di girare vedete il lavoro per poter avere evidente le maglie quattro abbiamo fatto cinque e questa è la sesta maglia sei ho fatto il secondo giro guardate come deve venire vedete comincia a formarsi un tubicino allora a questo punto voi potete sia mettere un marca punti per delimitare per delimitare l'inizio del giro oppure siccome le maglie sono così poche sono sei io ho da evitare un altro filo in più me le conto quindi ogni giro conto sei maglie quindi faccio uno due state attenti perché non si vede bene piccolino due tre giratelo man mano tre vedete tre quattro questo è il quinto cinque e il sesto ho fatto il terzo giro ricomincio ricomincio uno due tre quattro cinque e sei e ho fatto il quarto giro vedete uno due tre e quattro allora a questo punto io mi nascondo all'interno questo pezzetto di filo così non mi da fastidio quando vado a lavorare perché altrimenti mi ritrovo anche questo filo in mezzo e mi da fastidio vedete vedete che si sta formando un tubicino allora io ho fatto il quarto giro vado avanti così fino a 10 poi chiudo il lavoro e lascio un pezzetto di filo per cucire ne farò due identici andiamo avanti dopo aver fatto i due tubolarini per il ciuffetto che poi cuciremo qui sopra vedete passiamo a fare il becco allora il becco è fatto con da due parti il becco inferiore e il becco superiore allora io faccio prima il becco superiore allora faccio l'anello magico sempre come tutte le altre volte con le mie sei maglie uno due tre quattro cinque e sei maglie stringo sempre il cerchietto chiudo sempre con la mia maglia bassissima ed ora vado a fare gli aumenti gli aumenti questa volta li facciamo facciamo tre a tre quindi faccio da sei vado a nove e lavoro una maglia e un aumento e sono tre un'altra maglia e un altro aumento e siamo a sei un'altra maglia e l'ultimo aumento e siamo a nove quindi ho lavorato il secondo giro facendo una maglia bassa e un aumento ora faccio il terzo giro lavorando solo nove maglie così come sono quindi io le conto per non mettere il filo che tanto le maglie sono poche uno due tre quattro cinque sei sette otto e nove e ho fatto anche il terzo giro ora ora devo fare il quarto giro vedete comincia già a prendere forno allora io conto però adesso per farvelo vedere meglio a voce lo metto un segnetto così voi regolate meglio quindi adesso che ho fatto le nuove maglie vado a fare gli altri aumenti e le porta e porto le maglie a dodici come faccio faccio due maglie una due maglie e l'aumento che sono quattro altre due maglie uno due e l'aumento e siamo a otto altro altre due maglie e l'ultimo aumento siamo a dodici facciamo ora un giro da dodici maglie quindi una maglia su ogni maglia una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici e dodici sposto di nuovo il marca punti e vado a fare gli altri aumenti per quando riguarda il becco inferiore invece io a questo punto mi fermo e faccio se sto facendo il becco inferiore quindi a questo punto faccio una maglia bassissima e chiudo il lavoro guardate io l'ho già fatto questo è la parte qui già siamo arrivati al becco inferiore invece per fare quello superiore dobbiamo continuare quindi adesso facciamo tre maglie e un aumento perché lo portiamo a 15 quindi facciamo uno due tre e l'aumento ancora uno due tre e l'aumento ancora uno due due tre e l'ultimo aumento vedete è leggermente più grande facciamo ora un giro da 15 maglie e chiudiamo il lavoro così abbiamo fatto anche il becco quindi lavoriamo tranquillamente una due tre tre quattro cinque sei sette otto nove dieci unici dodici 13 14 e l'ultimo che qui facciamo una maglia bassissima e chiudiamo il lavoro lasciando un po di filo per cucire possiamo togliere anche il marcapunti ed ecco il becco superiore allora questo vedete va cucito così vedete il beccuccio allora il becco superiore va imbottito ma poco poco vedete proprio appena appena il becco superiore lo imbottiamo in questo modo vedete così il becco inferiore noi facciamo questo lavoro prima cucciamo vedete qui i due becchi la metà di questo con le sei maglie di questo altro lato qui in modo che prima ne vedete così e poi andremo a cucire i due lati questi esterni questi due andiamo andremo a cucire alla metà delle guanciotte vi ricordate che noi qui tra gli aumenti da un lato gli aumenti dell'altro delle guance abbiamo lasciato 10 maglie quindi sono queste vedete qui queste 10 maglie così alla metà poi andiamo a cucire così vedete in questo ci rimancano da fare gli occhi per fare gli occhi io ho usato un filato più sottile perché altrimenti mi venivano troppo grandi allora cosa ho fatto prima ho fatto le pupille col colore bianco e ho fatto sempre il mio anello magico con le mie se una due tre quattro cinque e sei mai stringo il lavoro e adesso dovrei chiudere devo chiudere ma chiudo in questo modo guardate taglio il filo un po lungo così estraggo il filo in questo modo senza aver chiuso la maglia prendo un ago infilo il filo nell'ago e chiudo passando vedete le asoline non so se si vedono bene eccole qua le prime asoline della prima maglia allora io infilo l'ago con il filo che ho messo adesso attraverso le due asoline così le faccio faccio passare in questo modo ho preso una combo troppo grande però va bene il lavoro si fa lo stesso così vedete e poi rientro nella sola da dove sono uscita col filo in questo modo e stringo vedete che si chiude senza lasciare il bordo con le maglie tutte visibili con le asoline tutte visibili poi con questo filo che ho cucio alla base dell'occhio ed ecco ho fatto una pupilla allora di pupille e dobbiamo fare naturalmente due vedete io l'ho già fatta ora dobbiamo passare alla base dell'occhio la base dell'occhio lo facciamo con un filato nero eccolo qui troviamo il capo di questo filato che mi si è un po' intrecciato come vedete eccolo qui ecco scusate allora come facciamo facciamo una catenella di quattro maglie quindi una due tre e quattro maglie torniamo indietro sulla catenella lavoriamo due maglie basse 1 e 2 maglie basse nell'ultima che è la terza andiamo a lavorare 3 maglie però questa volta tre mezze maglie alte quindi una mezza maglia alta due mezze maglie alte se ne è scappato il filo col nero io ho un po' difficoltà due mezze maglie alte e tre mezze maglie alte abbiamo girato andiamo a lavorare sulla parte opposta in questo modo e lavoriamo le due maglie basse come abbiamo fatto all'inizio ora non giriamo anche dall'altra parte intorno ma torniamo indietro torniamo indietro girando il lavoro in questo modo e senza fare la catenella io vado a fare una maglia bassa due maglie basse vedete ho fatto due maglie basse e ora vado a fare nelle tre maglie che erano gli aumenti di prima a mezza maglia sempre vado a fare tre aumenti quindi tre aumenti consecutivi quindi faccio una e due mezze maglie alte nella prima una e due mezze maglie alte nella seconda una e due mezze maglie alte nella terza e poi vado a fare le mie due maglie basse una una e due e chiudo il lavoro ora prendo il filo celeste o azzurro come volete chiamatelo come volete prendo il filo azzurro e vado a fare questa volta riparto non da dove ho finito ma dalla parte dall'altro lato sul dritto del lavoro quindi vado a fare infilo nella prima maglia l'uncinetto così estraggo la mia catenella la faccio e ci lavoro la mia prima maglia bassa ho fatto la prima maglia bassa ne faccio altri due quindi in tutto 3 1 2 e 3 vedete poi vado a fare una mezza maglia alta quindi tre maglie basse una mezza maglia alta ora vado a lavorare due aumenti a mezza maglia quindi nella prossima vado a lavorare uno e due aumenti aumenti a mezza maglia nell'altra ancora lavoro una e due aumenti a mezza maglia vado a fare una mezza maglia normale alta senza aumento e le mie tre maglie basse una due e tre maglie basse e chiudo il lavoro ho fatto anche la parte azzurra dell'occhio vedete questo filo è già bloccato quindi lo possiamo anche tagliare per non farci far fastidio ed ecco qua vado a prendere adesso di nuovo il bianco eccolo qui è sempre partendo dalla parte vedete da questa parte dalla parte dove si vede meglio la maglia ci infiliamo facciamo lo stesso lavoro estraiamo la sola facciamo la prima catenella poi facciamo la prima maglia bassa abbiamo fatto una maglia bassa vedete adesso andiamo a lavorare altre tre maglie basse in tutto ne sono quattro quindi una due tre e quattro vado a fare adesso una mezza maglia alta quindi qui lavoro una mezza maglia alta questo filo bloccato posso spostare ora vado a lavorare due aumenti questa volta però a maglia alta quindi filo una maglia alta due magliate ho fatto il primo aumento ancora una maglia alta due maglie alte ho fatto il secondo aumento ora vado a lavorare una mezza maglia alta e le mie ultime 1 2 3 e 4 le mie ultime 4 e chiudo il lavoro ecco qua l'occhio e poi sopra cucirò la pallina qui vedete io lo avevo già fatta vedete quest'altra quindi ne fate due in questo punto a questo punto abbiamo tutte le parti quindi non ci resta che io per avere un punto di riferimento tra le dieci maglie qui che erano a divisione di tutti quegli aumenti che ho fatto vedete qui abbiamo fatto gli aumenti 10 aumenti di qua e 10 aumenti di qua io a metà dei dieci aumenti ho messo un punto per avere un segnale per avere un punto di riferimento quindi questa è la metà del viso diciamo quindi io a destra qui e a sinistra da quest'altra parte vado a cucire gli occhi in questo modo nella parte inferiore metterò metterò il becco qui vedete e i due ciuffetti su incina qui ed ecco che la testa di tutti è pronta abbiamo fatto la prima parte cominciamo dopo la seconda parte qui è Grazie.